Partiti gli interventi di bonifica dell'amianto all'ex Ate Alfane di Corso Italia a Ponte Cagnano. Sulla questione del tabacchificio si registra l'intervento dell'Udc che in una nota chiede la sospensione dei lavori. Gli immobili insistono in zona antropizzata e con diverse attività commerciali, abitazioni, scuole, luoghi di ritrovo. Sarebbe stato opportuno per l'Udc pianificarli in una stagione climatica che avrebbe arrecato un disagio sostenibile. Il Comitato Cittadino del Partito di Ciesa pone l'accento sulla necessità di tutelare la salute pubblica. Le assicurazioni invece giungono in una nota dal Sindaco di Ponte Cagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, sulle procedure adottate. La ditta sta eseguendo i lavori con personale specifico e con le indicazioni di legge. Tutti noi cittadini di Ponte Cagnano Faiano stiamo attendendo da decenni l'abbattimento dell'ex Ate Alfane e la rimorzione dell'amianto. Questa è una data storica.